ciao eccoci di nuovo qui allora io sentivo un po di freddo allora ho detto ma sai che c'è di nuovo mi metto un velo c'era un velo qua di una vecchia sposa e tra le mettetelo almeno ti riscaldi un pochettino altrimenti hai freddo la mia piccolina non può tenere freddo poi ci siamo messi il caffettino il velo siamo in macchina e abbiamo pensato visto che vogliamo comunicare un'informazione della data di un matrimonio che abbiamo il velo la macchina ce l'abbiamo il vestito da matrimonio ce l'ho ma a questo punto ci sposiamo proprio ma che ce ne frega a noi eh sì ma ci sono tutti questi preparativi a questo punto veloci veloci consacriamo il nostro amore stiamo venendo però io non me l'aspettavo proprio guarda proprio credimi non me l'aspettavo Livio mi sa che tutti non se l'aspettavano ok ma Livio vabbè ci sposiamo sei contento anche io è stata contenta amore quindi ci sposiamo ci sposiamo che sappiate noi andiamo a sposarci e là fuori non so se hanno capito che ci andiamo a sposare secondo me qualche presentimento ce l'avranno che ci sposiamo proprio che facciamo la promessa un po' l'uno e un po' l'altra hanno pensato di tutto hanno pensato che abbiamo vinto al super e la notte che lo vogliamo comunicare che sono incinta che ci siamo già sposati e adesso vogliamo festeggiare che era la nostra idea iniziale perché non me l'abbiamo detto ma noi in realtà volevamo spostarsi solo tutti qua quella sarebbe stata una bella sorpresuna loro eh ma là proprio andavamo all'ospedale ci picchiavano tutti proprio ma noi siccome non ci piacciono non ci piace la violenza se ci piacciono ma poi sotto e tagli sotto e tagli sotto e tagli e quindi questa era la nostra idea iniziale adesso invece è cambiato un po' perché abbiamo pensato che potevamo morire troppo giovani per malo di parenti poi non è il caso e quindi che stiamo? basta, ci possiamo stare andando noi siamo ormai in macchina in autostrada siamo quasi arrivati dovete aspettare perché all'inizio eravamo noi ad aspettare voi con l'organizzazione a questo punto visto che si è fatto tardi sarete voi ad aspettare noi perché è giusto così ci dobbiamo sposare la sposa si fa aspettare la sposa si fa attentere attentere ma sono dettagli ma sono dettagli se ci piacciono se ci piacciono e vabbè detto questo ora sta copro potremmo pure eliminarlo si spegniamo basta adesso abbiamo bisogno di un po' di privacy adesso dobbiamo fare perché può darsi pure che ci ripensiamo e ce ne andiamo proprio è stato tutti là ad aspettare nessuno ci ripensiamo proprio bellissimo ci picchiano vabbè andiamo poi magari scappiamo successivamente pensiamo a chi è venuto da fuori poverino cioè è infatti è infatti è infatti meglio così dai io so cose che capitano arrivederci grazie è stato a piacere pazzo ciao 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 vediamo se la riesco a chiudere